Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it questo video è registrato con Honor 6X la risoluzione è in full HD è il massimo della risoluzione che può supportare questa fotocamera quella che vedete inquadrata adesso è la cittadella di Sarzana una fortezza medievale proviamo a camminare e a spostarci un pochino non ha nessun tipo di stabilizzazione software o hardware comunque devo dire che la messa a fuoco è molto rapida piccioni che se ne vanno in giro proviamo a fare un primo piano e ritorniamo alla posizione di partenza questo video è registrato con Honor 6X ciao ciao